Allora, Francesca, che cosa ci presenti? Beh, anche io sappro che profano un Cristo, un Cristo che non guarda perché è deluso, dell'uso dell'umanità. Nonostante i ricchi colori presentati, i regali che ci ha fatto presentati dai colori, noi non siamo riusciti poi a goderli e ad apprezzarli per quello che era. Quindi questo è un Cristo che non guarda lo scelto che facciamo. E' dato il titolo? No, senza titolo. Il propano? Il propano è uno scorcio di grotte di Castro visto da una delle zone etrusche di grotte. Quindi sotto, e qui non si vede, c'è una necropoli. Questo l'hai fatto per me nell'occasione. Sì, perché non è il genere di cultura. Perché tu in genere che cosa fai? Spiegaci. Io in genere lavoro più sull'astratto che faccio arte fluida. Quindi lascio lavorare i colori che volano.